Oh, eccoci qua! Si parte! Dai, dai che arriva la gente! Muoverci, muoverci! Ma anche tu, ma che idea hai avuto? Io non lo so! Sante, guarda! Sempre a lamentarsi! Metti su, dai! Muoviti! Lo sai che mi piace fare l'avventura e stare dietro il banco? Io non... Sto dietro a te! Dai che arriva la gente adesso! Signori, siamo aperti! Si comincia! A lavoro! Buonasera! 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 Ben ritrovati a Telerisolvo! Buonasera! E' una rubrica che così vi aiuterà a risolvere le diatribe, le disquisizioni, gli alterco e quant'altro voi... Usiamo parole semplici qua, ragazzi, dai, dai, fa capire bene, non essere lento... Se qualcuno ha qualche sperequazione da porre, allora... Si, ma usi termini che sono borbonici, capito? Ehi, va bene! Disquisizioni, non si usa più! Basta dire, avete problemi? Scriveteci! E noi ve li risolveremo! Diciamo che è la precisione del concetto che uno... In qualche maniera... Cosa vuoi parlare tu di precisione che sei di Ercolano, dai mo? Non ci capisco! Sei di una precisione inutile oltretutto! Inutile... Perché te parli per niente! Come ieri sera! Perché sei anche me conia! Oltretutto! Lugo a cena tutte le sere! Per chiedere se era pronta la pasta asciutta! Cosa aveva tu dita? Hai detto tutta una filipica! Gli commensali possono finalmente appropinguarsi... Così? Al desco di Codesca Magione per dar conforto e nutrimento alle vicere e allo spirito! Perfetto! Dovremmo mangiare la pasta sutta fredda! È logico! Dai! Cerchiamo di andare al sodo per il servizio per i nostri telespettatori! Allora, voi scrivete e qua a mio cognate rispondo! Tu sei mio cognato! Appi e cognato si è scritto! Tu sei cognato, io sono Appi! Leggiamo la lettera che ci ha scritto! Ho spostato sua sorella! No che interessa! Ho spostato sua sorella! Leggiamo la lettera! Leggiamo la lettera! Allora! Quest'oggi... Ciao! Sono Antonio Girottino! Non è possibile! Girottin! 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 Ciao Antonio! Vivo in centro città vicino al teatro Stabilo di un'orchestra simfonica di 80 elementi! Che rogna! Che rogna! Tra prove e concerti quando arrivo a casa alla sera non trovo mai parcheggio! Per forza! Come posso risolvere tale situazione? Caro Antonio! Ma pensa la fortuna sfacciata che hai ad avere vicino a casa l'imitrofo alla tua abitazione un teatro dove si fa musica dove si fanno concerti! La musica... Ascolta! Ti muove il sentimento! Hai capito? Il sentimento! Cosa vuoi parlare? È una fortuna! Cosa vuoi parlare tu di sentimento che sei di Ercolano? Dai mo! Eh! Ragioniamo un attimo! Scusa! Eh mio cognato! Eh mio cognato! La musica è un elemento fondamentale della vita degli uomini! Su questo siamo d'accordissimo! Hai capito? La musica sinfonica si chiama anche da camera me parlo! Perché? Perché? Perché bisogna suonarla in camera a casa sua è una cosa intima da suonare a casa non andare in giro per i teatri rubando oltretutto i parcheggi alla gente che lavora! Quindi ragioniamo! Caro Antonio se noi vogliamo l'unico modo per farli stare a casa questi dell'orchestra è serare il teatro! Mi sembra logico! Per dare la possibilità a quelli come Antonio di trovare il parcheggio bisogna buttar giù il teatro è costruire un parcheggio matematico! Facciamo un bel parcheggio a ovoide che mi va su tutto a spirale con i vetri a specchio anche una cosa gradevole da vedere! Questa è la nostra proposta! La proposta non si può buttar giù un teatro! Eh come no! Cognato! Ma il teatro è la musica! La musica aggrega! La musica comuna! La musica tramanda le tradizioni! Ma assolutamente d'accordo! La musica entra in te vene e ti fa bollire il sangue! I senati per cantarlo! Il cantaria sempre! Non lavora! Il canta! È logico! E anche intonato devo dire! Ogni anniversario va in curtivo suona col mandolin e mia sorella innamorata al balcone! E qua chiudo perché... Allora Antonio! Morale! Si butta giù il teatro e si costruisce un bel parcheggio multipiano! Non preoccuparti! Possiamo farcela! Allora Antonio! Facciamo così! Allora tu raccogli le firme dei vicini! No no no! No no no! Che ti va incontro a rogne! Non servono a raccogliere firme! Passi qua in ufficio! Basta una! Basta una! Basta una! Sei quella giusta di firma! Vieni a trovarci! Mio cognato ti aspetta anche le domeniche dalle 9 a mezzogiorno! La domenica non ci sono! Alle 9 della domenica dormono pure i cali! Vieni Antonio che lo trovi! Ciao ragazzi! Scriveteci! Te le risolvo! Noi ve le risolveremo i vostri guai! Saluta! Saluta in italiano! Non si capisce! Vedi che devi essere immediato! Non sta a dire robe che non si capiscono! Sì pronto! Pronto signor Besa? Sì sì sono io! Buongiorno signor Besa! Sono Andrea di Telezoom! Lei conosce le favolose offerte della nostra nuova compagnia telefonica? Guardi! Non ho il telefono! Grazie! Buonasera e benvenuti al sondaggio Demoscopapu di oggi! Ecco i risultati del sondaggio svolto su di un campione di italiani che risponde alla domanda Come vedi il futuro? Dottor Besa? Sì! Buonasera! Diciamo che il 50% degli italiani alla domanda come vedi il futuro risponde Lo vedo dal calendario di Frate Indovino Il 30% risponde il futuro bene è il congiuntivo che mi da dei problemi Il 20% risponde ancora due anni con la condizionale e poi ho finito Bene! Sicuramente dei dati che ci possono far riflettere a lungo Grazie Dottor Besa e addio piacendo Arrivederci a domani A domani Allora professore ieri sera com'è andata la maialata? Ah la forseata Eh la forseata Molto bene molto bene mi dia una mano Vede ha esagerato come il solito lo sa che soffre di gotta eh? Eh lo so ma di fronte agli zamponi di fronte agli ossi di maiale come se non mi faccia fare queste cose A chi tocca oggi professore? Eh a lui Su cos'è quella faccia non la stiamo mica scuoiando eh per farne degli insaccati E' un po' di ottimismo Che problema ha? E' un problema al braccio Ah Una brutta botta ecco la lastra L'omero 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 Ullala che disastro Il braccio che va in su? Come il braccio che va in su? Impossibile Questa qui è la mano Ah beh che diamine per forza Ma vedi come lavorano in radiologia? Eh Mai una volta che mi mettano nord sud ovest est Eh per forza Eh lo so Guardi oggi lei è fortunato che ci siamo noi che ci sappiamo orientare Usando magari la bussola eh? Eh se no chissà in che mani capitava Ah allora qui la situazione è seria Molto seria L'omero sembra a posto ma Eh c'è sempre un ma C'è una piccolissima ombra biancastra Potrebbe rimanere così per anni Ah certo Ma potrebbe anche finirmi in cancrena Eh si Sa quanti ne abbiamo visti cominciare così e poi finire in cancrena? Eh eh Se vuole lei può farsi ingessare Ah si eh ma poi E se la ingessano male? Eh eh E mi viene fuori con un braccino più corto e uno più lungo Come staglie olio cosa fa eh? In alternativa la possiamo operare Ah si Una frattolina così cosa ci mettiamo a sistemarla? Certo ma nulla Si buca si mette una vite autofilettante E poi si cuce e via a casa eh Ma è sicuro? È sicuro? Lei rischia di uscirmi di qui Eh? Farmi tre metri e lasciarmi il braccio nel portone dell'ospedale Eh? Cambiamo tutto? Eh? Già che ci siamo cambiamo tutto? Ma si Già che apriamo converrebbe cambiare tutto Non crede Cosa dice di inserire? Omertex 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 L'omero del nuovo millennio L'unico omero costruito in costantana Resistente elastico infrangibile Garantito a cento anni e lavabile anche in lavatrice Armin Rick De 15-12-25 Eh? Allora lo facciamo questo tagliandino? Eh? Siamo sicuri per sempre? Ma sì che lo facciamo Vero che il nostro paziente è bravo Eh? E allora via Si parte Allora professore E il braccio è il destro o il sinistro? Facciamo quello che ha lei più comodo Vabbè allora cominciamo da questo Bisturi Eh? Un attimo prima un po' di anestesia eh? Mi sbaglio sempre Anestesia Anestesia contro la pulsazioni Professore Sarebbe Pulsazioni Dovrebbe esserci una televisione laggiù Lei che ci vede meglio di me Vede una linea che va su e giù o una linea diritta? No va su e giù come le montagne russe Perfetto Devo smettere di guardarla altrimenti mi vien da vomitare Possiamo iniziare Bisturi Eccolo qua Controlli se si è addormentato Si è addormentato Dormi dormi Ci parte Un elefante Si Me lo tenga Me lo tenga Me lo tenga Sopra un filo di una ragnatela Me lo tenga Me lo tenga Che notizia Nani Senti qua che notizia Ma cosa stai facendo? Ma si può? Ma c'è la gente Siccome mi è successo che Ma fammi piacere Ma cosa stai pazzi? Ma cosa stai pazzi? Ma guarda mi fai Ma io non lo so Guarda che tu Stavo leggendo qua Della campagna elettorale mi hanno fatto due balle E' un batti beccarsi continuo Uno dice una cosa uno dice l'altro Uno dice bianco uno dice nero Chi dice bianco? Chi dice bianco? Occhio eh non bianco eh Dice una cosa uno dice l'altra Ma la cosa che mi stupisce di più di questi politici E' che sanno tutto Ah loro Quando i giornalisti gli fanno una domanda I politici hanno sempre la risposta pronta Ah io non capisco Ah io non capisco Sei perché le hanno risposto pronta? Eh perché? Perché non capiscono le domande Ma fa mi piacere dai E la gente che aspetta Lui va in giro coi Guarda qua cosa vuoi tu E' mezz'ora questo qui che è qui davanti Non dice niente Cosa vuoi qua? Eh sentiamo Un bianco Un bianco Ma un bianco qui Vieni qua a chiederle un bianco Un bianco qui Non bianco Non bianco Non bianco Calma Un bianco Un bianco Un bianco È un bianco Plea Un bianco Fa un bianco